Enesimo appuntamento con la Tu per Tu, oggi ospite con noi Gianluigi Trovesi, parlare Gianluigi Trovesi è sempre molto difficile, com'è difficile iniziare questo appuntamento perché noi siamo soliti definire l'ospite con un termine, quale termine a pioppare a Gianluigi Trovesi? Artista di palcoscenico? Ma sulla caratteristica ho scritto musicista, poi alcuni dicono che forse non sono musicista, vedete voi, comunque sono considerato uno che vive suonando. Vediamolo sotto un altro aspetto, jazzista, compositore, artista, quale meglio veste l'immagine Gianluigi Trovesi? Il musicista può essere un esecutore, può essere un compositore, diciamo che un musicista comprende tutto, artista è generalizzato chiaramente con l'arte, nel senso di pittura, scultura, eccetera eccetera, io purtroppo non dipingo, non faccio cose di questo genere, non ricito, no, beh qualche volta però in duo con Kosha facciamo dei simpaglietti che sembrano preparati, ecco, e quindi sono musico. Che sia un grande professionista, beh risaputo a livello internazionale, la dimostrazione abbiamo avuto anche adesso con l'aggancio immediato a Kosha che è un assist del quale non posso non approfittarne, anche grazie alla cortesia per parlare di un lavoro che proprio è stato pubblicato di recente. Sì, io insieme a Kosha e anche con i gruppi miei, lo tetto e altre cose, da alcuni anni lavoriamo per una casa tedesca che si chiama ICM, che è una casa importantissima nel nostro campo, forse è un numero uno nel mondo, che si interessa non solo di jazz o musiche vicine al jazz, ma anche di musiche, ci sono musicisti d'avanguardia, musicisti, loro trattano anche musica video e vale, un po' di tutto, la musica in generale. E l'ultimo lavoro che mi hanno fatto io e Gianni Kosha è intorno ad un musicista importantissimo per l'operetta, Jacques Offenbach, abbiamo giocato intorno e è uscito in questi giorni il disco, ne approfitto per dire se volete passare un bel Natale acquistatelo. E con l'operetta è diventato un po' il live motive di una serie di situazioni che coinvolgono Trovesi e non sono sbaglio, in questo ultimo periodo. Sì, ma per esempio pochi giorni fa con Gianni Bergamedi e Elena Bertocchi abbiamo fatto un lavoro e porteremo in giro, penso, speriamo, un lavoro intorno all'operetta. Ma l'operetta alcuni la considerano un genere minore, probabilmente è un genere minore, comunque è un genere che poi ha dato origine al musico, se si vuole forzare, che dà origine poi al musico non fa altro che preparare il terreno di cultura del jazz, perché nel musico americano ci sono dei temi che verranno poi sfruttati soprattutto dai jazzisti degli anni trenta in avanti. Possiamo dire che l'operetta è un po' la nicchia della musica di nicchia, è talmente settoriale che... Per adesso, ma l'operetta ha avuto successi pazzeschi, la musica di moda in un certo periodo storico era l'operetta, come la musica di moda per un altro periodo storico in Italia è stata una comedia musicale, basti pensare a Kramer e Trovaioli, eccetera, eccetera, quindi... Poi in Paglio c'è una sorta di legame affettivo verso queste figure, parlo di Gorni Kramer... Ma io sì, ma ognuno di noi penso quando è nella pancia di sua madre, sembra che si ascolti musica e nasce in un luogo dove ascolta... Io volevo proprio partire da questo perché sono un eterno nostalgico e arrivare a capire perché ha trentaquattro anni l'Exploit, e prima invece cosa c'era? Ma prima... Beh l'Exploit è stato quando sono nato, chiaramente, per mia nonna e i miei parenti, quindi ero bellissimo allora mi dicono, poi vabbè, dopo qualche mese si è fermato, no, prima non ho fatto altro che lavoravo nel senso che mio destino, tra virgolette, si fa chiamare destino, mi sono sentito a fare l'operaio, no, mio padre ha pensato però non mi andiamo a studiare un pochino magari diventerà un disegnatore e se studiava bene un geometra, fortuna della valle, diciamo così, non sono diventato perché non so quante case sarebbero state in piedi con il sottoscritto ma ho cominciato nel cortile dove sono cresciuto e un'ora si viveva nel cortile, i condomini non esistevano ancora, suonavano tutti, suonava anche mio padre la batteria per passione e niente, sentivo qualsiasi tipo di musica, si sentiva lì, il fatto di suonare era una cosa normalissima e sono entrato nella banda del paese, io sono di Nembro e lì si sono accorti che potevo probabilmente camminare un pochino, mi hanno consigliato, mentre continuavo sempre a lavorare le famose 48 ore la settimana, c'è stato un regalo da parte del papà, praticamente ti converebbe studiare con un maestro che insegna il conservatore che era il maestro Tassis e mi sono presentato lui, mi sono iscritto all'istituto di Bergamo, non era ancora pareggiato, lì ho cominciato di insegnare, sono nelle balliere della zona, lì è stato il mio vero conservatore per quello che riguarda il jazz, quindi ho assimilato una musica accademica, la musica per far ballare e la musica improvvisare, imparavi a improvvisare, poi sono entrato nella scuola media come insegnante di educazione musicale, ci sono rimasto 11 anni, fino a quando ho avuto la fortuna di vincere un concorso nell'orchestra della RAI di Milano, ci sono rimasto a 15 anni, nel frattempo ho insegnato anche 3 anni al conservatorio di Cragnetto, al conservatorio di Dalfo Buario Terme e poi hanno chiuso l'orchestra, sul fatto che arrivi ai 34 anni e perché, non lo so, cito un grandissimo musicista come Liconiz, che sono i grandi del sassofono, tuttora vivente, ad una domanda per dire, ma come mai lei, rispetto ad altri colleghi, non ha mai fatto dei soli, nei dischi di musica leggera, di musica pop? E lui fa, perché non me l'hanno mai chiesto. Ah, quindi questa è la possibilità? No, nel senso che per me, io pensavo, non ho mai pensato alla carriera, non ho mai pensato di fare musicista, mi piaceva il clarinetto, il sassofono, mi piaceva la musica, per me l'ideale era di riuscire a, cioè, se uno decide qualcosa, io ho deciso che cosa, verso i 15 anni, 16 anni, mi sono accorto che mi piaceva studiare, farò l'operaio, farò qualche altra cosa, ma la musica la tengo come, la studio per il resto della vita perché è piacevolissima no, per me. E quindi mi sono trovato a studiare, dovevo lavorare, ho lasciato questa specie di impiego lavoro come disegnamento della scuola media, ho studiato composizione con il maestro Fellegara fino al sesto anno, perché intanto lavoravo, avevo famiglia, eccetera, eccetera, e mi sono trovato appunto che sul Radio Corriere leggo che fanno un concorso in Rai per primo clarinetto, nell'orchestra di musica leggera e jazz, cioè avevo un altro nome, l'orchestra melodica, ritmica di Milano, dove c'erano, tra l'altro i musicisti che facevano parte di quell'orchestra, erano i miei itali da ragazzo, Masetti, Basso, Fanni, cioè era come, ti chiamano per fare una partita con l'Atalanta e trovi quelli giusti, no, e tu sei lì che... Ma ascolta, in tutta questa vicenda, il papà, che ruolo... Ma il padre, ma più che altro, il padre è stato l'idea, lui suonava la batteria, volevo anche io suonare la batteria, tutto lì, se ve lo dire... No, te lo chiedo, perché adesso noi abbiamo detto in forma molto riduttiva la ballera, ma allora la ballera è una palestra assoluta, io ricordo, io lo ricordo tuo padre quando suonava con Tartisio Bergamelli, ad esempio, anche la rinetta, cioè i pezzi, non è che si facesse finché la barca va per capirti... No, no, se devo aprire una parentesi posso parlare per tre giorni su questo, prima cosa, io inizio, no, per dire qual era il tempo, è come se fossimo stati nel Medioevo, ma non da punto di vista culturale, il gruppo con cui ho iniziato a suonare, qui al Bettinelli di Albino, che era una sala alla ballo di allora, era composto da clarinetto, il sottoscritto, fisarmonica, pianoforte e batteria, il contrabbasso non c'era, senza microfoni, questo dà già l'idea di che la musica, noi appartenevamo ad un'epoca che poi sarebbe stata spazzata purtroppo per certe cose, spazzata via dall'onda dell'amplificazione dei microfoni incantati, non c'era cantante, si rivolgevano, quelli che venivano volevano ballare, punto e basta, l'importante era suonare bene, tu imparavi comunque se avvivi le qualità, perché finito il tema, per esempio, del fisiamolicista, toccava a te, guai a te se lo suonavi come lui, dovevi imparare a mettere qualcosa, tu avevi citato prima, Tarciso Bergamelli, è stato uno dei più grandi musicisti in quel campo, lui è stato poi in tutta l'Europa a suonare nei club, bravissimo, ecco, questo veniva a fare le prove a casa mia, con Gianni Bergamelli, che intanto, voglio dire, io sono cresciuto con gente, mentre tra l'altro nel cortile suonavano quelli della banda, veniva loro a provare e portavano una musica che era decisamente diversa rispetto alla banda, e questo istinto dell'improvvisare, io penso che all'inizio uno c'era o non c'era, però il fatto di suonare il clarinetto, suonare il sassofono, lo diremo un po' che Tarciso, Tarciso veniva a, io ero ancora a Rasino, loro suonavano la domenica pomeriggio qui a Nembro, dove c'era Bergamelli, Tarciso, mio cugino Luigi, che sono la fisarmonica, mio padre, la batteria, mi portava, non voleva mio padre, ma lui mi prendeva sui bicicletta e mi portava lì e stavo lì tutto il pomeriggio a sentire loro e nell'intervallo mi faceva suonare un po' la batteria e il duo con Bergamelli, Gianni, è iniziato allora, io avevo cinque anni, lui se non aveva una forza e io la batteria nell'intervallo, perché altra cosa che si può dire è che allora i musici suonavano tre pezzi e si fermavano, il famoso tris, non si fermavano lì, guai a dire di andare avanti, poi arriva un periodo in cui arriva il non stop, cioè tu inizi a suonare e per tre ore, quattro ore o chi suonava nel micro, sei ore di fila, non si fermeranno mai, addirittura il periodo in cui i pianisti devono suonare in piedi, quindi io appartengo come formazione a quella generazione, come se fossi un piccolo dinosauro, quindi la formazione è quella, però nel frattempo ho trovato un ottimo maestro per lo strumento accademico, anche se poi l'ho usato poco da quel punto di vista, allora ti formi piano piano delle conoscenze, è come se avessero dato da un punto di vista musicale, che si è avuto dal cortile, dalla famiglia, dagli amici di mio padre, eccetera, eccetera, dal conservatorio, darsi con felle gara, no, degli attrezzi per stare a galla comunque nel mondo della musica e mi sono trovato infatti a navigare più o meno bene, magari senza affogare i diversi generi, per esempio quando io vado nell'orchestra della Rai e lì si facesse, lavoravo appunto con le figurine panini, i famosi, e lì se devi fare un piccolo solo il raffronto era enorme, quindi ho lavorato con Franco Cerri che è un grande musicista e soprattutto poi chi mi ha dato la notoria di testo Gaslini, ma allora in quel momento ho anche vissuto come spettatore, in parte come protagonista, l'evoluzione del linguaggio jazzistico che arriva fino al free, fino al free che si avvicina al teatro, gli olandesi, i tedeschi, tra l'altro pochi anni fa l'AB80 ha fatto un film sul mio lavoro riguardante l'opera con musiche di Gazzaniga, del quale tra l'altro è stato prodotto un DVD e un disco dell'LGM, in cui ho fatto un tragitto dell'opera perché sono appassionatissimo dell'opera, la banda allora suonava l'opera, trascrizione dell'opera, adesso suona altre cose, altre cose bellissime, no? Ok? E... Non sempre... Beh, ho sentito un concerto pochi giorni fa dalla musica diretta da una ragazza... No, no, non sto parlando di musica, proprio nel senso generale... Il senso, l'altro, se potrebbe dire non sempre, anche le musiche dell'Ottocento sono belle, assolutamente... Però, senza entrare in questo campo, ho fatto questo lavoro con... è toccato il DVD, no? Il DVD è stato fatto dalla V80 che mi ha seguito su questo lavoro, nel DVD si ritrovano quei personaggi che sono, tra l'altro, di casa, come Gunther Benisommer, no? Bart Phillips, Manfreshoff, il quale io ero in Tournée due o tre anni fa, la V80 mi ha seguito con questa produzione e qui, probabilmente, con questo DVD si è un po' lo spaccato dalla mia vinta, dalla mia storia. E a 34 anni corrispondono a quando io ho vinto il concorso in Rai, cioè lascio la scuola, in cui mi ero trovato benissimo, tra l'altro, la scuola media, e ho inclinato in parecchi posti dalla provincia, perché allora c'era poi un'ora alla settimana in negozia musicale. E divento professionista come musico, come esecutore, no? Quindi sono un professore dell'orchestra. per tutti gli effetti. Per tutti gli effetti. E mi faccio 15 anni in Rai. Quando la Rai, però, in quel periodo io incontro Giorgio Casdini e pratico nello stesso momento, diciamo così, navigo un po' le vie del free jazz, non del jazz tradizionale, del jazz moderno, free jazz che ormai era diffuso in Europa, e ho fatto questo lavoro duplice. Nel 94 circa la Rai decide di disfarsi delle orchestre, di tutte le orchestre, ne è rimasta una a Torino, e io sono trovato in giro. Ho insegnato un po' ai corsi di Siena di jazz, no? Poi ho deciso di non insegnare più, magari fra un po' le signorano ancora, a parte cose sanzuali, e dire, beh, ho sempre, da quando ho dato l'età di 14 anni, ho sempre avuto la tabella settimanale fissata da qualcun'altro. Adesso provo, quando posso, fissarla io, non so se ne ho fatto. Ho iniziato a fare il professionista che avevo 60 anni, quindi 34 anni, inizio. Però la professione, il senso di, il professionista, il senso di, decido io, no? Cosa fare di, quindi, non alle dipendenze di qualcuno, eh, avevo, no, 60 anni, avevo 50 anni. Sto facendo raro. Sto facendo la conta qui, a sto punto sui 68 anni, 67 anni. Siccome ho fatto un excursus dall'Ottocento fino ad oggi, esatto. Potrei raccontarti che ero amico di Dino Bixio, e non ero io che suonava la tromba, ecco. Comunque sia, a costellare tutta questa serie di eventi, moltissimi riconoscimenti, immagino quello più gratificante è quello del Capo dello Stato, sbaglio. Sì, ho avuto, ecco, questo campo qui, tra l'altro, ci hanno detto, ne ho avuti due. Uno, il primo, che era molto proprio del Presidente della Repubblica, Ciampi, arriva inaspettato, io ero a suonare con, a dirigeri, non solo un direttore, ma in quel caso lì, stavo dirigendo ad un festival tedesco del jazz, mi dicevo la WDR, Big Band, che sarebbe la Big Band, l'orchestra jazz della radio di Colonia, ospite Marco Stokhausen, facevano un repertorio mio, mi hanno fatto giù un disco con questo, e nel pomeriggio noi dovevamo fare la prova dei suoni e fare un piccolo, due pezzi invece nelle autorità della regione, per la sede del concerto, arriva, mi telefona Ugo Bacci, direttore di Bergamo, per dire se, io mi chiamavo anche Giovanni, mi è arrivato il comunicato del Presidente della Presidente della Repubblica, dove dava l'elenco, molto ufficiale della Repubblica, la cosa, dico sono Giovanni, effettivamente, non so, poi si informa, il mio manager si informa, e niente, ho avuto questo onore, la cosa è avvenuta, secondo me, in modo strepitoso, cioè non ti aspetti una cosa come questa, perché poi il mio manager l'ha comunicato all'organizzatore quando siamo andati su fare il pezzo per le autorità, prima del pezzo c'è stato un annuncio che ero diventato ufficiale della Repubblica, l'orchestra in piedi, è arrivato il Borgomastro dal Milano, questa è la cosa, poi tramite, niente, poi hanno deciso che di farmi il commendatore, forse per la pancia, anche, no, sfruttando questo tramite, è arrivato da Napolitano, e naturalmente sono, non so se meritare queste cose, io ho fatto un lavoro come musico e basta, ma una delle altre cose buone per me sempre in questo campo e che il ministero francese della cultura mi ha fatto che il cavaliere, era l'ufficialità è venuta proprio con la banda musichè, con l'orchestra musichè a Bergamo, a Donizetti, è venuto il rappresentante del console ad Arminia, a piccarmi su quel profilo, praticamente non ti aspetteresti una cosa buona, quindi è contento, questo è dal punto di vista dei risultati, poi qualche amico ti dice, ma quanti soldi ti danno? Ma guarda che non ci sono soldi, e Allura va bene. Quindi questo gioco degli 8000 Aura è soltanto un gioco. Ma io spero che qualcuno lo prenda sul serio, io butto lì, forse è il problema. No, sta scherzando ovviamente. È difficile, è difficile parlare controvesi, riuscire a parlare controvesi perché sono talmente tante le cose da dire e noi i tempi televisivi sono assolutamente contenuti. Chiedo per accelerare e arrivare verso il giro di bordo inclusivo. jazz e improvvisazione? Tu improvvisi spesso anche nella vita? Non ho mai pensato. Devo telefonare al mio analista e poi lui mi dice cosa deve rispondere a una domanda come questa. No, eventualmente comunque, in questo percorso così, devo dire che ho passato anche tre anni buonissimi ad Arfo quando ho insegnato al conservatorio. Intanto ci torno perché ho contatti per esempio con una mia che si arriva dal punto di vista della musica dell'insieme, da Simona Cotti, lei ha gruppi rock. Io chiamo rock tutto quello che non è jazz e non è... Per tanto mi chiamano a fare quello che avrei dovuto fare secondo alcuni nella vita, cioè il solista delle canzoni, fare il turnista. Ecco, io non ho fatto mai il turnista. Tu ti avessi dire perché non hai fatto mai il turnista? Io ti dico perché nessuno mi l'ha chiesto. No, non ci credo, perché comunque ci sta come variazione a una scelta. Allora lì intanto si tratta di suonare o per beneficenza o robe di persone, e quindi ho ancora un contatto con... Ecco, ma dimmi una cosa, perché pochissime donne sul palco? Sul palco? Che senso? Come appassionate, musiciste, interprete... Ma no, guarda, dipende... Quindi sarebbe un problema legato al femminismo o intorno al fatto che una donna ha a secondo della società. Però proprio pochi giorni fa l'Orchestra Musique ha fatto un concerto qui a Nembro. A livello di orchestra, sì, ma come jazzista? Ah, come jazzista? Ce ne sono, ce ne sono. Io lavoro l'anno prossimo con una pianista israeliana, probabilmente, no? Ce ne sono. Carla Brey, ci sono, però sono numerose come i maschi, diciamo così. Esiste l'orgasmo musicale? Questa qui adesso, io non so, non ho i termini, no? Ecco, perché sono ancora un ragazzo, no? Ecco. No, esiste la pelle d'oca musicale, non lo so, mi fermo alla pelle d'oca. Esiste, per esempio, voglio dire, ci sono delle musiche che ti prendono, e non tutti hanno questa sensazione. C'è una musica di Sen San, intanto, perché è legata alla pubblicità di un prodotto che intanto sento un frammento di questa musica, che è tratta del Carnevale degli Animali di Sen San. Tra l'altro nel disco un corso facciamo un brano di Offenbach, il più famoso Can Can, che Sen San decide di dedicarlo alla tartaruga, facendolo non veloce come Can Can, ma lentissimo. In parte è quello che, tutte le volte che lo sento, dura pochi secondi, è l'acquario di Sen San. A me viene la pelle d'oca. Cioè, questo è un esempio, il piede d'oca con una melodia dei cucini, il piede d'oca con una canzone magari di quando eri giovane. Cioè, la pelle d'oca non è necessariamente legata al livello artistico. Noi ci emozioniamo di fronte ad un paesaggio, di fronte a una cosa bella, di fronte a un suono, di fronte a un'opera d'arte, no? Di fronte, non so, ci sono poesie, sono legato un po' a… magari sono passatista, ma io non posso leggere il 5 maggio senza che mi scelga una lacrima subito dopo aver letto i primi quattro versi, no? Così come l'inizio, per esempio, dei Promessi Sposi, se io voglio far finta che sono commosso, leggo l'inizio e mi commuovo. Questo qui vuol dire che ho un animo sensibile, non lo so, magari uno leggendo, che so io, le… Come d'altronde, non è che l'assessibilità… l'assessibilità consiste anche nel ridere, no? Ci sono delle musiche, dei pezzi, eccetera, che ti mettono gioia e allegria e delle canzoni che ti fanno ridere, no? Ci sono delle canzoni, per esempio, quando un ragazzo in Italia ne sento volentieri ancora quando le trasmettono, di Buscaglione, no? Di quel periodo, con il testo di Chiosso, mi sembra che fosse, no? Che sono una storiella umoristica, come quella di Campanile, eccetera… Chiudiamo in controtendenza, non chiedendoti magari cosa ti è mancato, cosa vorresti fare… Ti voglio invece chiedere quanto, e concludiamo con questo, ti ha aiutato la fisicità nell'esprimere la tua musica? Ma io… la fisicità nel senso… il fatto di essere imponente… No, fisicamente sei imponente anche sul palco… Sì, ma a parte che sono seduto… Cioè, taglieresti mai i capelli e la barba, per dirti per… Ma il problema dei capelli e della barba è semplice… Una… una… diciamo così… Comodità… Una malattia, nel senso, una broncopolmonitia un po' pesantina quando ero… Quando avevo ventisei anni… Mi ha costretto letto per… O una bronchite, eh… Oppure non avevo voglia di andare a suonare, no? Mi ha costretto quindici giorni… Mi sono andato con la barba, diventava di moda… E per comodità quella, no? Lunga, più corta, eccetera… I capelli adesso dovrebbe rasarli… Ma mi vergogna un po', io sto così… So che non ho più capelli, praticamente… Non sono più di… nel senso che… Non sono più di moda… Ma non mi sono mai posto il problema o del parrucchino o della… Sto così, cerco di… Di essere il meno trasandato possibile… No, ma non è… Più che altro è riuscire a capire se effettivamente ti senti addosso il fatto che la tua espressione musicale sia aiutata… Naturalmente con le grandi capacità tue, ma aiutata anche da una certa fisicità… Ma non lo so… Penso… Cioè il fatto di fare un solo e vederti sul palco con la luce puntata su di te e con questa capacità virtuosistica che hai… In aggiunta all'aspetto fisico… Tu dici se fossi stato più piccolo… Più piccolo… Più piccolo… Tozzo… Forse… Forse sì… Saresi stato meno predominante… Anche se non hanno parte delle mie amiche e miei amici o le figlie miei dicono che dovrei dimagrire, no? Ma comunque… Probabilmente sì… Anche se io mi ritengo, da un punto di vista fisico, dall'aspetto, più un musicista da radio… Radio, no? Da televisione, no? Perché la televisione ingassa un pochino… La radio… Puoi immaginare com'è… Assolutamente… Libera immaginazione… Noi immaginiamo… Tu possa continuare per altri… 50 anni abbiamo detto… In quest'anno… Si, si può essere 50… Non di più perché cominciano ad avere… Fra 50 anni cominciano ad avere qualche disturbo all'alluce… Valgo… Grazie Gianluigi Trovezzi… A voi, grazie a voi… Grazie a tutti… Grazie a tutti… A voi voglio… Grazie a tutti… Grazie a tutti…